un saluto ai tre spettatori di pianeta basket tv ma anche delle otto televisioni collegate sul digitale terrestre che ci permettono eh di arrivare in cinque o sei regioni del centro sud Italia. Sesto appuntamento con chiacchiere da basket e l'otocacco sportivo settimanale di pianeta basket tv dedicato alla palacanestro nazionale al maschile in generale ma come sempre lo sapete alla palacanestro campana al maschile per quanto riguarda le categorie della serie A della serie B anche del campionato di serie C gold che noi andiamo sempre ad analizzare non solo in questa trasmissione ma anche sui nostri social e sui nostri vari mezzi di comunicazione. Un saluto da Paolo Amalfi, un saluto però anche da Andrea Esposico. Ciao Andrea. Ciao Paolo, bentornati a tutti. E un saluto anche da chi torna a trovarci dopo un mese esatto o poco più un grande amico non solo di pianeta basket tv non solo del basket campano ma un allenatore di grande spessore più volte in serie A e anche in serie B coach Ciccio Franco Ponticillo. Ciao. Ciao Paolo, ciao Andrea, ben ritrovati. Allora con Ciccio iniziamo subito a parlare di basket nazionale. Ciccio breve Palenzi dedicata alla nazionale un minuto e non più, si torna in campo, Pozzecco dopo le buone performance ai campionati europei, torna a giocarsi le qualificazioni mondiali, siamo molto vicini tra l'altro, però insomma due ostacoli ancora davanti al cammino della giovane nazionale italiana, la rinnovata nazionale italiana, gli incontri con la Spagna e con la Georgia in virtù appunto di una qualificazione prestigiosa ancora ai prossimi mondiali. C'è tra l'altro anche il napoletano Caruso che tu conosci particolarmente bene, che soccorre Napoli Basket, insomma note positive anche per la campagna in questa in queste due partite che andiamo ad affrontare con alcuni giocatori dell'Eurolega, saprete insomma l'anticipo del derby italiano a due giorni prima al primo impegno con la Spagna, quindi potremmo anche disporre di qualche giocatore dell'Eurolega, però insomma Ciccio, breve parentesi dedicata nazionale, un minuto e poco più, dai. Paolo, è sicuramente un appuntamento che fa seguito ad un'estate lo scorso settembre in cui già Marco Pozzecco ha fatto molto bene dal mio punto di vista e voglio dire sono i risultati insomma al di là dell'epilogo direi abbastanza casuale anche la rimonta in estremis della Francia che non ci ha consentito poi all'overtime di poterci giocare una medaglia direi che l'andamento sia stato ottimo insomma un buonissimo europeo. Adesso questa fase di qualificazione insomma che vedrà priva di Fontecchio e di Melli per differenti motivi insomma come è noto non ci saranno i giocatori NBA e una buona parte dei giocatori di Eurolega nel caso di Melli insomma che è stato credo una delle stars del dell'europeo problematiche d'ordine fisico. Vedremo e anche a me fa veramente molto molto piacere verificare l'approto in nazionale di Willy Caruso insomma che credo sia nella sua parentesi negli States al College sia adesso a Barese stia facendo e abbia fatto molto molto bene un giusto premio per lui ma anche un qualcosa che credo possa avere un senso prospettico insomma io penso che Willy possa continuativamente far parte della nazionale perché lo merita perché è un ragazzo super oltre che un giocatore il giocatore che è sotto gli occhi di tutti. Ok torneremo a parlare di Caruso perché è stato protagonista tra l'altro contro la squadra campana della vittoria della sua Barese contro Scafati e adesso però andiamo subito con i numeri della Serie A Andrea andiamo subito a guardare cosa è successo in termini di risultati e naturalmente la relativa classifica dopo sei turni del massimo campionato di Serie A che come ricordo e come ricordavo qualche minuto fa va in letargo per una decina di giorni per permettere appunto alla naziale di Pozzecco di giocare due partite qualificazione mondiali lo ripeto con la Spagna e anche con la Georgia quindi si tornerà a giocare soltanto nel weekend tra il 19 e il 20 novembre. A te Andrea. Sì vale i risultati di questo sesto turno ha visto in anticipo Treviso aveva la meglio su Brescia 99-92 poi le gare della domenica pomeriggio hanno visto Scafati soccumbere al Palamangano per mano di Varese 93-101 il parcele finale Milano e Spugnare Pesaro 71-85 così come Trento lo fa a Verona 86-92 in casa Trieste ha la meglio su Sassari 75-69 così come Brindisi su Tortona 86-84 prima sconfitta stagionale per coach Ramondino la Reier Venezia ha la meglio in casa su Napoli 82-71 il finale così come la Virtus Bologna in posticipo batte in casa Reggio Emilia 79-65. La classifica vede adesso a punteggio pieno soltanto la Virtus Paolo perché come ho appena detto poc'anzi Tortona ha visto la prima sconfitta stagionale in LBA e si è vista raggiungere da Milano a quota dieci un terzetto a otto punti composto da Trento Reier e Varese sorprendente Varese Pesaro e Brimisi a quota sei e poi un gruppone a quattro punti composto da Trieste Treviso Napoli Reggio Emilia Brescia e Sassari a due punti Scafati e Verona. Bene allora c'è una prima valutazione della classifica mi pare che Bologna ha dimostrato di avere qualcosa in più in questo inizio di campionato rispetto alle altre. Tortona è caduta ma rimane sempre una valida esponente di questo inizio di campionato Milano balbetta parecchio soprattutto in Eurolega però in campionato continua ad essere fra le protagoniste poi c'è la Reier Venezia insomma tutto ciò abbastanza programmato secondo te? Ma direi che al di là della sconfitta di Milano con Venezia che poi faccia la differenza tra la Virtus e Armani insomma jeans direi che nel complesso si sia visto finora ciò che ci si aspettava di vedere nel senso di Milano e Virtus Bologna sopra le altre e Tortona che sta dando seguito allo alla straordinaria stagione dell'anno scorso. Il resto credo che sia davvero magmatico cioè non ci sia veramente soluzione di continuità. Ecco forse sono forse Venezia forse Venezia ha qualcosa in più rispetto alle altre no? No ma Venezia mi colpiscono anche altre realtà che direi che sono destinate a progredire nel corso della stagione direi che finora però si è sia visto soprattutto grande equilibrio poi è chiaro che l'analisi tecnica match per match partita per partita ti dà delle indicazioni in più però una valutazione generale che sia successo si sia determinata una situazione di grande equilibrio ecco se vuoi sintetizzare in un concetto tra l'andamento di Verona Scafati e quello di squadre più accreditate parliamo di due neopromosse nel caso di Scafati e Verona voglio dire siamo nell'orbita di due quattro punti significa che non si sono ancora determinate diciamo stratificazioni gerarchie importanti poi è chiaro che guardi l'organico di Milano di Bologna di Tortona di Venezia come giustamente dicevi tu e trovi oggettivamente un potenziale tecnico più importante di quasi tutte le altre insomma delle sorprese come Brescia e come Tortona l'anno scorso non si sono ancora viste ma non è detto che non si determinino nelle prossime settimane nei prossimi mesi linea di massima prima di gennaio è veramente difficile trovare grandi suddivisioni in tronconi almeno se si procede con questo passo assolutamente allora andiamo a parlare di Napoli sconfitta in quel di Venezia purtroppo seconda sconfitta consecutiva che fa praticamente che fa sì che insomma la sconfitta con Trieste fosse ancora più amara la sconfitta a Venezia ci sta in in termini di valutazione perché Venezia lo abbiamo appena ricordato è una signora squadra un grosso e lunghissimo Napoli ha cercato nei 40 minuti di far suo il risultato non c'è riuscita decisivo il break nel secondo tempo dei Lagunari trascinati da Watt che dimostra di essere sotto canestro un personaggio veramente molto temibile ha vinto il duello contro i lunghi avversari napoletani ha determinato questa vittoria di Venezia 82 a 71 con Napoli che ha avuto la solita percentuale di liberi non esaltante 12 palle perse durante la partita il solito alternarsi di buoni periodi a periodi di blackout bene già Cody Williams e Howard per il resto insomma si è fatto un po' fatica esordito anche Emmitt Williams saprete insomma dell'addio ad Agravanis che sta già giocando tra l'altro nella sua Grecia l'avvento di Emmitt Williams che è stato anche tra l'altro tesserato questa giovane alla statunitense ha giocato soltanto sei minuti quindi poco giudicabile il suo apporto per il resto insomma un po' di delusione per la prova ancora opaca di Johnson che non riesce a trovare una continuità di rendimento in questo inizio di stagione poi si è patito un po' sotto canestro però insomma ovviamente la sconfitta a Venezia ci può anche stare credo che Napoli poi alla fine continui a pagare quello stop inaspettato contro Trieste in termini di classifica perché se si fosse vinto con Trieste la classifica di Napoli sarebbe più che buona è ancora deficitaria proprio perché si è perso in quel di Trieste giocandosi il bonus che si era invece creato nella vittoria importante in quel di Pesaro dopo un overtime insomma. Ciccio la tua opinione sul cammino di Napoli? Napoli che è un cantiere ancora aperto dice Buscai eh quindi potrebbe esserci ancora qualcosina da inserire una squadra che sinora ha vinto solo due partite buona impressione in quel di Pesaro e nella partita contro Reggio Emilia un passo indietro invece con Trieste forse anche con Venezia. Ma direi che la discontinuità sia probabilmente il fattore che caratterizza la stagione di Napoli tra un match e l'altro ma credo all'interno anche del del confronto insomma eh io ricordo ehm la la grande accensione nell'inizio del secondo tempo di eh Napoli a Brindisi recupera da un se non erro o meno diciassette andando poi avanti poi prende un contro break ecco vince vince a Pesaro che è una squadra che sta facendo bene insomma credo che Pesaro avesse vinto eh con Venezia eh la settimana prima o quella dopo non ricordo bene con Brescia con Brescia e immediatamente dopo perdi perdi il match casalingo con una Trieste che sembrava in affanno in quel in quel frangente. Direi che probabilmente bisognerà abituarsi a questi alti e bassi eh non è detto che non riesca a eh non trovare ehm finalmente una continuità di prestazione all'interno del match e tra un match e l'altro eh sicuramente queste eh queste alternanze eh di struttura ehm in prossimità del ferro già che quello che è probabilmente il settore più appunto interrogativo della squadra ehm eh non aiuta né l'immediato però credo che ehm vada ribadito con Napoli ciò che avevamo detto poco fa cioè che probabilmente non sia la discontinuità un fattore eh solo napoletano ma sia quell'elemento che ci dà questa classifica così così strana così poco ehm così fluida e poco strutturata insomma perché un po' tutte le squadre non solo Napoli magari alternano eh una prestazione eccellente ad un'altra invece assolutamente da dimenticare. Al te Andrea. Beh Paolo tu hai citato prima le parole di Buscaglia sul concetto di cantiere aperto. Tendenzialmente però i cantieri per quanto riguarda la metafora sportiva a novembre in oltrato se non chiusi dovrebbero essere già ben avviati verso la chiusura. A Napoli il cantiere targato GV Napoli tutto sembra tranne che è avviato alla chiusura. La partenza di Agravanis, il tesseramento di Emmett Williams che però poi gioca solo cinque minuti eh un a un certo punto ieri sera c'era un 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 roster cioè un quintetto con quattro piccoli e il solo Williams alternato con Zerini e Zanotti adattato da cinque per cercare di mascherare un po' questa mancanza di centimetri eh contro poi una una regere che fa della fisicità uno dei propri tasselli di forza più importanti infatti ieri Michel Watt nei pick and roll ha fatto a fette la difesa di Milano la difesa di Napoli vi chiedo scusa e quindi questo è un problema importante è un problema importante perché a novembre un cantiere così in balia di lavori non è proprio un'ottima cosa. Assolutamente adesso ci sono quindici giorni o con più di dieci giorni di stop reali bisognerà lavorare per l'inserimento di Emmett Williams bisognerà trovare altre alternative. Io ricordo una cosa fondamentale lo abbiamo detto all'inizio di stagione l'obiettivo di Napoli è quello di una tranquilla salvezza che può conseguire con questa squadra. Indubbiamente c'è qualcosa da da limare qualcosa da aggiustare e credo che il prossimo match Ciccio probabilmente mi darà ragione contro Treviso sia già un bel viatico per migliorare la classifica. Treviso che è tornato alla vittoria su Brescia ed è una squadra che ha in Banks il suo alfiere ma non mi pare sinceramente imbattibile. Cioè questo duo di giovani Jurkata e Jantonen particolarmente prospettico però poi Sokolowski insomma con Treviso può essere una partita importante per Napoli Ciccio alla ripresa del campionato? Beh arrivare dopo lo stop due sconfitte consecutive. Significa arrivare quasi dopo un mese in cui non hai vinto dei confronti. È chiaro che quello con Treviso non fosse altro per aspetti mentali oltre che di classifica che tecnici di organizzazione magari di questo settore interno al gioco che ha finora palesato delle difficoltà insomma ehm diventa essenziale ecco è un match che Napoli può vincere direi che è un match estremamente importante per tutti gli aspetti che avevamo ehm diciamo detto poco fa ehm direi fondamentale ecco cioè eh si tratta di interrompere una mini striscia negativa significa anche ehm riacquisire quella tranquillità che solo il successo ti dà. Giusto. Allora Andrea adesso lasciamo il capitolo Napoli abbiamo detto il prossimo match con Treviso. Vigileremo naturalmente durante queste due settimane che cosa può succedere in quel di Napoli soprattutto l'inserimento progressivo che a questo punto deve avvenire anche di Emmett Williams che deve dare il suo apporto altrimenti Napoli come diceva giustamente Andrea ha qualcosa in meno sotto canestro e in Serie A non te lo puoi permettere assolutamente. Andiamo con eh l'altra rappresentante del nostro basket eh campano la Givova Scafati che ha esordito eh sul suo campo al record eh di eh praticamente agibilità e omologazione si è lavorato intensamente per venti venticinque giorni per permettere giustamente a alla Givova Scafati di giocare nuovamente alla Paramangano che tra l'altro ha cambiato anche nome si chiama Beta Arena grazie a uno sponsor che ha praticamente perorato la causa di Giallo Blu della società Giallo Blu si è perso con Varese 93 a 101 si è inseguito sempre i vari sini che hanno avuto questo Caruso in grande spolvero soprattutto in attacco ventitré punti sette su nove due su due leggo qui le cifre entusiastiche eh di Willy Caruso poi molto bene anche Ross e il solito Johnson insomma Varese viene da tre vittorie consecutive è una bella realtà quella costruita eh da Scola come abile manager e poi sul parquet da questo quarantenne statunitense Matt Brace Scafati si è trovata praticamente sempre a inseguire non ha disputato una delle sue migliori partite al tiro ehm e soprattutto eh tranne Lemba che è andato molto bene con ventinove punti poi per il resto insomma è vero cinque uomini doppia cifra però Rossato e Logan non hanno avuto quella serata importante che avevano avuto in altri ambiti soprattutto al tiro e tutto ciò insomma ha fatto sì eh che eh Scafati perdesse in casa contro Varese una partita eh diciamolo onestamente abbastanza difficile per il giallo blu Ciccio la tua opinione sul momento eh di Scafati che veniva a dalla sconfitta esterna di Trento e dalla vittoria con Verona eh ha incontrato forse una delle formazioni più in forma in questo inizio di campionato e che gioca un ottimo basket che ne pensi? Ma direi che probabilmente gli è capitato l'avversario peggiore che potesse incontrare in questo momento perché perché Varese andando in continuità anche con ciò che aveva fatto l'anno scorso insomma ehm se ti ricordi eh aveva avuto una fase in cui davvero vinceva in cassa e fuori con tutti giocando un basket abbastanza tipico quello della scorsa stagione ma anche quest'anno rispetto a quello che si gioca in questo frangente in Italia in 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 Serie A ehm e ha imposto dei ritmi ehm che 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 Scafati non non è riuscita a fronteggiare insomma leggevo stamattina delle dichiarazioni ehm di eh Alessandro Rossi che sottolineava l'aspetto difensivo in quasi i quasi settanta punti subiti nel primo tempo insomma mh per una squadra che l'anno scorso aveva vinto la due soprattutto facendo leva sul sulla propria forza difensiva la la impermeabilità del del proprio ferro ecco secondo me eh questo è significativo della fase di passaggio che sta incontrando Scafati e lo scotto che pagano le neopromosse si debbono reinventare una una veste una dimensione ehm direi che nel complesso ehm appunto una squadra che gioca ai ritmi di Varese abbia chirurgicamente messo in evidenza questo aspetto però eh direi che non non si possa dire rispetto le cose che abbiamo detto in precedenza con Napoli cioè voglio dire vai a valutare quali sono le due squadre a due punti Scafati e Verona che non hanno mostrato una pallacanestro inferiore alle altre ma sono le due neopromosse quindi direi anche qui il l'abusato l'abusata espressione di cantiere aperto insomma possa essere adoperata ehm adoperato con con diciamo realismo è quello che effettivamente in questo momento Scafati sta fronteggiando assolutamente a te Andrea qualche analisi tecnica del match ricordo che Scafati dopo la sosta andrà a giocare a Sassari l'altro brutto cliente diciamo che anche il calendario non ha aiutato molto Scafati diciamo onestamente insomma perché tranne il match con Verona insomma sono state affrontate tutte squadre di un certo livello e sarà così anche con Sassari eh al rientro dalla pausa a te Andrea sì Paolo fermo restando che anche Sassari non è che sta vivendo un momento eccezionale di stagione ma questo casomai ne parliamo tra qualche minuto tornando alla partita contro Varese c'è un dato statistico che secondo me rispecchia bene le difficoltà Scafatesi è la bravura di eh Varese nel cavalcare quel ritmo incalzante che ha permesso poi di segnare cento punti in trasferta che è una cosa che a noi in Italia si vede molto di rato e parlo del 75 per cento da due punti 25 su 33 nel pitturato è un segnale di una linearità di gioco offensiva di chiarezza di gioco offensiva che davvero si vede raramente alle nostre latitudini il pick and roll ieri di Varese i tagli dei lunghi a centro area forse Ciccio ce lo spiegherà bene sono state davvero una costante della partita di Varese che hanno permesso a Caruso prima e ad altri poi suoi compagni dopo di trovarsi spesso e volentieri ad appoggiare o ancora meglio a schiacciare palloni senza la la difesa che potesse dar fastidio e questo è stato la la chiave tattica che ha permesso a Varese di correre il campo per tutti i 40 minuti non dando a Scafati come è successo in altre partite la possibilità concreta di rientrare in partita con una percentuale dall'arco per per Scafati che comunque si è attestato al torno al 30 per cento quindi non è che abbia tirato poi così tanto male è soltanto che poi dall'altra parte sette canestri ogni dieci tentativi è quasi impossibile rientrare in partita assolutamente comunque prossimo turno Napoli treviso all'insolito orario delle sedici ma da quest'anno si gioca anche alle sedici eh di domenica invece in serata poi questa trasferta di Scafati a Sassari diceva giustamente Andrea Sassari non gode in questo momento di un ottimo momento di salute ma è pur sempre una squadra molto ben fornita allenata da uno dei santoni del basket italiano che appunto coach Piero Bucchi che noi ricordiamo benissimo a Napoli quindi al ritorno Ciccio due impegni da non sottovalutare assolutamente due impegni probanti per le squadre campane vero? Assolutamente sì due due confronti che credo eh siano importanti per motivi di classifica per motivi tecnici ma anche soprattutto per per aspetti mentali credo che su questo si possano ripetere senza soluzione di continuità le cose che dicevamo per Napoli anche per per Scafati ehm Sassari è un po' eh l'emblema del della squadra che secondo me non ha mh assolutamente così grande distanza di valori tecnici e di resa cestistica eh rispetto al alle Tortona alle ehm alle Venezie eppure credo che abbia gli stessi punti di Napoli quindi potremmo addirittura allargare eh a Sassari ciò che è stato detto per 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 Napoli e Scafati la verità è che ehm sicuramente eh sono delle partite molto molto difficili e molto molto importanti per per tutte le protagoniste ma credo che ehm per certi versi ehm la sosta della per la nazionale possa aiutare gli staff tecnici di Napoli e Scafati a fare quel quello step, quell'upgrade eh per per poter vincere entrambe le partite insomma credo che eh siano due confronti difficili, differenti eh ma che ehm una volta nel nel calcio si direbbe da tripla eh nel senso che eh può essere può esserci vittoria interna, esterna, ci possono essere scarti ampi o anche partite molto probabilmente più realistico questo aspetto, partite che si decidono sul filo di lana. Assolutamente. Allora lasciamo la serie A di cui torneremo a parlare abbondantemente la prossima settimana anche perché c'è questa interruzione per la nazionale quindi possiamo parlare del prossimo turno abbondantemente la prossima settimana. Allora andiamo in serie B Andrea invece, sesto turno nel girone D, ne parliamo in maniera approfondita con Ciccio che conosce benissimo questo campionato. Andiamo però prima come sempre facciamo con i numeri della classifica. Cosa ha detto questo sesto turno a te? Sì Paolo, tre anticipi per questo sesto turno, la Lewis Roma continua nel suo campionato molto promettente battendo in casa Teramo 82-75, così come Cassini in casa la meglio su Bisceglie 77-60 e Salerno su Pescara 68-58, quindi tre anticipi che hanno visto tre vittorie casalinghe. Per quanto riguarda le gare domenicali, il ruvo di Puglia sul fil di lana alla meglio sul Roseto 55-54, Corato largamente su Pozzuoli 86-72, altra partita decisa sul fil di Serena, quella tra Juve Caserta e Sant'Antimo 71-70 per i bianconeri Casertani, Monopoli alla meglio su Avellino 86-75 e in trasferta Taranto batte Sala con Silina 53-58. La classifica, archiviato questo sesto turno, vede Rubo di Puglia ancora a punteggio pieno a 12 punti, si sta costruendo un cuscinetto di vantaggio rispetto alle dirette inseguitrici composte da un bel gruppone a otto punti, Cassino, Juve Caserta, Taranto, Bisceglie, Salerno e Lewis Roma. A sei troviamo Monopoli, Sant'Antimo, Avellino, a quattro Pescara, Corato, Roseto e Teramo. A due Sala con Silina ancora a zero Pozzuoli. Allora Ceccio, facciamo un giudizio generale su questo raggruppamento, anche qui è molto presto per dare giudizi definitivi, Rubo ha accumulato un vantaggio, direi che tra le campane Caserta è quella che in queste giornate sta dimostrando di essere più continua nei risultati. Avellino che un mese fa era messa molto bene con tre sconfitte consecutive, ha un attimo così di stop, però ha parecchi infortunati, non aveva meglio carenza Elio Antonio nella sconfitta esterna che ha patito a Monopoli. Per il resto, insomma, Sant'Antimo fa molta fatica ancora fuori casa ed è una nota simile a quella della scorsa stagione. Sala, lotta, ma non riesce a abbissare l'impresa della scorsa settimana, mentre Pozzuoli, squadra giovanissima, continua a pagare un certo gap nei confronti delle altre, no? Ma guarda, io credo che queste prime sei giornate mostrino paradossalmente, sicuramente, condivido quello che hai detto tu, elemento di continuità con ciò che si sia detto rispetto alla Lega, nel senso che anche qui, al di là dei quattro punti di vantaggio che ha al momento Ruvo, mi pare che sia un gran polverone, cioè che anche qui, dopo sei giornate, bisogna vedere soprattutto le partite in trasferta, con che squadre siano state vinte e con che squadre siano state perse, secondo me non ci sono grandi valutazioni da fare nell'immediato. Un elemento che mi ha colpito è che ci siano forse più fattori di continuità però rispetto alla stagione immediatamente post-Covid che non rispetto a quella scorsa. L'anno scorso ci fu, le prime sei squadre erano tutte incentrate su dei giocatori molto giovani ed erano squadre molto allenate, molto di flusso, squadre che correvano ossessivamente, Bisceglie, Ruvo, Agrigento, Salerno, avevano questa caratteristica del flusso, magari senza grandi identità comuni, cioè Salerno la interpretava soprattutto come capacità di controllo dei ritmi e di togliere il flusso all'avversario, Agrigento e Ruvo giocavano a dei ritmi così come Ragusa ossessivi per l'avversario. Ho l'impressione invece che quest'anno probabilmente per la formula davvero complicata, tante squadre abbiano investito su dei giocatori molto avanti negli anni, si sia molto più che rispetto alla pallacanestro da giocare, si sia investito sul giocatore che nell'ultimo minuto e mezzo ti faccia la differenza, però questo bisogna vedere spalmato su otto mesi di campionato cosa significherà. Al momento onestamente vedo molto basket camminato, molte partite che sono pochissimo di flusso, dicevamo Varese a Scafardi, giocano agli antipodi di questo basket di flusso che sembra essere nelle ultime stagioni divenuto il minimo comune denominatore del basket italiano a tutti i livelli, è chiaro che tra B e A1 c'è un'enorme differenza, però lo si gioca in maniera continuativa. Forse questo girone, a differenza probabilmente delle altre, proprio perché ci sono tante squadre costruite intorno a trentenni o quarantenni che hanno necessità assoluta di questo controllo del ritmo e non sempre, ti dico la verità, al di là di casi sporadici, Cassino, Luis, Sant'Antimo e direi anche Caserta, soprattutto a partire dalla terza giornata in po', insomma, che giocano invece un basket oggettivamente più organizzato, più strutturato e meno dipendente dal singolo. Allora, per quanto riguarda le squadre campane, Salerno è tornata a vincere dopo la sconfitta esterna ed è posizionata sempre molto bene in classifica grazie a Zucca e Moffa, insomma, ha avuto la meglio su Pescara, Pozzoli, come dicevamo, giovanissima ha perso anche a Corato, Corato che si era rinforzata con l'arrivo di Gambarota, vecchia conoscenza qui in Campania, in questo combattutissimo derby, Juve-Caserta-Sant'Antimo con due tiri liberi di sperduto, ha prevalso a due secondi dalla fine la Juve-Caserta, poi la Delfest deve purtroppo registrare la terza sconfitta consecutiva, ma ripeto, ha dei problemi fisici non indifferenti, la pattuglia di coach Benedetto perché ha fuori carenza e ha lì Antonio non in perfetta forma, mentre Sala Consiglina ha lottato contro la Corazzata Taranto, perdendo cinquantatré e cinquantotto, buoni gli innessi di Claciar e di Obinna, ex Sant'Antimo, insomma, direi Ciccio, una giornata interlocutoria ancora per le squadre campane, il tuo giudizio? Assolutamente sì, diciamo che il derby tra Caserta e Sant'Antimo, insomma, deciso veramente sul filo di lana, insomma, sia un ottimo spot perché proprio si è giocato con grande equilibrio, anche se Sant'Antimo è stato, credo, in vantaggio quasi tutto il match, ma Caserta ha avuto il grandissimo merito di non lasciarsi andare e di, diciamo, da formichina arrivare ad un finale punto al punto che poi gli ha riso. Direi che Avellino sia, come dicevi tu, in una fase particolare, però comunque è una compagine che credo abbia i mezzi tecnici per stare continuativamente nella parte sinistra della classifica ed è una oggettiva concorrente alle prime quattro piazze. Sant'Antimo si è detto molto bene, soprattutto nelle primissime giornate, ma credo che vincere a Roseto e d'Avellino, insomma, contraddica un po' l'idea della continuità con i problemi di trasferta della scorsa stagione e Sala Consilina, insomma, era probabilmente il dazio da pagare ad una mini rivoluzione di organico, insomma, poter scendere sotto il livello del match giocato a Roseto, dove davvero ha fatto una partita di intelligenza tattica importante, di grande concretezza. Pozzuoli è una compagine destinata a crescere nel corso della stagione, ma quando si investe sulla gioventù, soprattutto come nel caso di Pozzuoli, una gioventù estrema, naturalmente bisogna avere la pazienza, io dico che non ha comunque assolutamente, come dire, demeritato in tutte le prestazioni, non ho molto seguito la partita a Corato, che era una compagine che veniva da un periodo nirissimo e quindi era probabilmente l'avversario peggiore da affrontare, però credo che anche su Pozzuoli ci sia più che altro un intento di avviare un progetto e questo credo che nel lungo periodo pagherà. Allora, per quanto riguarda il futuro delle sei formazioni campane, Ciccio, mi pare che, insomma, Salerno, Caserta, Avellino e Sant'Antimo abbiano nelle loro mani il destino e possano sicuramente ben figurare, conquistare almeno la permanenza nel campionato, nel prossimo campionato di Serie B, uno di eccellenza, non so come si chiamerà, mentre per Sala, Consilina e Pozzuoli il discorso è un tantimino diverso, soprattutto la giovanissima Pozzuoli potrebbe fare più fatica delle altre. Il tuo giudizio sul futuro delle squadre campane, tenendo conto che tra l'altro nel prossimo turno, nella settima giornata, ci sono Pozzuoli, Caserta, l'anticipo di sabato, Avellino, Sala, Consilina, che invece si giocherà domenica e la trasferta di Salerno a Teramo. Il big match della giornata per le campane, cioè Sant'Antimo è stato posticipato al trenta novembre. A te, Ciccio, il giudizio. Ma condivido la tua valutazione, nel senso che ci sono quattro realtà in ordine sparso, insomma, non gerarchico, Sant'Antimo, Caserta, Avellino e Salerno, che sono tutte e quattro delle assolute pretendenti alle prime e quattro posizioni ai playoff e comunque non avranno in ogni caso nessunissima difficoltà dal mio punto di vista ad essere la prossima stagione dentro questo contenitore, almeno dentro questo contenitore nuovo che non si sa ancora adesso se si adopererà, ma credo sia scontata la vecchia dizione di videoeccellenza. Sono delle squadre forti che hanno già mostrato delle qualità, magari la continuità non è stata finora, ma non è stata, come dicevamo in precedenza, di nessuno il loro punto di forza. Sala Consilina è una neopromossa e come tale ha bisogno di tempo per prendere confidenza, vincere a Roseto, insomma, che è al momento attardata in classifica, ma sicuramente è una delle favorite della vigilia, anche in prospettiva della Prodoina 2, insomma, non è cosa certamente da poco. E Pozzuoli ha un progetto giovane che credo non sia assolutamente, come dire, circoscritto all'ambito stagionale, è un qualcosa che porterà avanti anche nei prossimi anni. Quindi direi che anche con riferimento alle prossime partite in calendario, insomma, siano tutte delle partite di grande interesse, insomma, il derby Pozzuoli-Caserta lo sarà senz'altro, così le altre partite, possibilità di andare a vincere in trasferta o di consolidare la propria forza Casaliga e l'altro derby è anch'esso estremamente interessante. Direi che nel complesso si possono dire cose assolutamente positive sul comportamento delle squadre campane finora e credo anche in prospettiva. Sì, per quanto riguarda Avellino-Sala Consiglina, per Avellino assolutamente c'è da vincere questa partita. Sala Consiglina andrà forse un po' più distesa mentalmente, quindi sarà una partita comunque meno pressione. Esatto, sì. Salerno va a Teramo, una squadra un po' strana in questo inizio di stagione che ha alternato prestazioni positive a prestazioni un po' meno positive. Salerno può fare il corpaccio a Teramo. Il big match tra Antimorugo è stato invece rinviato al prossimo 30 novembre, si giocherà di mercoledì sera, 30 novembre alle 20 e 30. Vedremo insomma cosa cosa succederà. Andrea vogliamo andare col prossimo turno, dai, completo. Sì, Paolo, proprio per fare chiarezza tra derby e posticipi ricapitoliamo con ordine il settimo turno che si giocherà a cavallo tra il 12 e il 13 novembre. Cassino ospita in anticipo Corato, il derby Pozzuoli-Liuve-Caserta va a completare la coppia di anticipi e poi la domenica pomeriggio si andrà con Pescara-Luis-Roma, Bisceglie-Monopoli, Avellino-Sala Consiglina, Teramo-Salerno e poi Taranto-Roseto, come hai ben anticipato tu, il big match, partena presentante Morubo di Puglia, rinviato al prossimo 30 novembre. Eh sì, è stato rinviato, vedremo che cosa succederà. Ciccio, insomma, come sempre, situazione magmatica per questa riforma che deve arrivare prossimamente, insomma, un minuto di giudizio su quanto avverrà. Ma è veramente difficile prevederlo, nel senso che è possibilissimo che la post season capovolga i risultati della regular season, qualcosa anche di simile se si vuole a ciò che si sia determinato nelle due stagioni post covid, ma con eh diciamo rischi enormi in chi arriverà dalla quinta alla dodicesima piazza dovrà giocare un surreale play out e non so se questo migliorerà quel discorso che poi facevamo d'ordine tecnico sul sulla tipologia di basket, cioè c'è il rischio davvero che si 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 vada ad una ad una stagione dove quel basket camminato, questo basket anche eh eccessivamente fisico eh che mh va detto insomma probabilmente le squadre campane probabilmente stanno sfuggendo da questa trappola, stanno giocando probabilmente tutte invece un basket molto molto tecnico e poco camminato però temo che probabilmente la paura ecco del del finire poi nel contenitore interregionale ehm insomma assorba tutto ci auguriamo invece in ogni caso che ehm la 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 programmazione di tutti gli staff tecnici ehm insomma faccia crescere il livello eh delle performance che poi è quello che interessa di più è i eh ai tifosi ehm forse no ma agli appassionati genericamente vedere un basket eh dove non sia il fallo tecnico o l'antisportivo ehm diciamo il fattore chiave che decida la partita ma sia invece la la prestazione delle squadre insomma ehm credo che ehm probabilmente adesso non sia neanche più il caso poi di di stare a rimurginare su sulla formula giusta sbagliata ma che tutti insomma debbono debbono provare a mettersi in gioco e ehm ripeto da da Ruvo che al momento è la capolista a Pozzuoli che è l'unica non aver ancora vinto in questo girone credo che lo stiano facendo con con grande dignità insomma a dispetto appunto delle enormi tensioni e delle pressioni che eh una stagione di questo tipo porta con sé allora ultimo capitolo dedicato alla serie C Gold io anticipo Andrea che è in testa alla classifica il girone Campano Calabro Lucana sono rimaste sempre due formazioni il Marigliano di coach Gentile e anche eh Salerno di coach Menduto eh si giocheranno due turni in questa settimana uno infrasettimanale uno dedicato al prossimo weekend leggici brevemente i due turni così poi concludiamo la nostra traduzione abbiamo dedicato tanto tempo alle altre categorie ci scuseranno eh i tifosi della delle squadre di C Gold la prossima settimana non avendo la serie A possiamo dedicare un po' più di spazio alla C Gold a te Andrea sì Paolo dicevi bene tu due turni il sesto eh quindi andiamo con quello infrasettimanale per dire così vedrà Mondragone Salerno La Mezzia Rende Benevento Angri Cibi Napoli eh Ischia Caserta PSA Basket Campus e Potenza Marigliano per quanto riguarda invece il settimo turno che si giocherà tra il dodici e il tredici novembre avrà eh vedrà eh Ischia Benevento PSA Cibi Napoli Angri Mondragone Rende Marigliano Salerno La Mezzia e Caserta Potenza sì eh PSA Cibi Napoli si gioca in posticipo si giocherà l'altro lunedì quindi anche qui vogliamo puntualizzare un po' la situazione comunque Marigliano e Salerno per ora sono le regine di questo l'aggruppamento l'aggruppamento tra l'altro molto equilibrato perché ci sono anche Angri Benevento eh Mondragone e tantissime altre formazioni di grandissimo lignaggio eh che possono far bene e aspirare a queste quattro promozioni dirette nella B interregionale che nascerà come diceva giustamente Ciccio a giugno a fine giugno vedremo cosa succede per quanto riguarda il giovane Cibi Napoli vediamo anche gli sviluppi in settimana per l'arrivo di qualche nuovo giocatore la formazione napoletana è estremamente giovane pensate eh quello che ha eh più anni eh ehm di di basket è il l'argentino Ginobili che è del novantanove per il resto tutti duemila duemila e uno e duemila e due quindi formazione giovanissima quella che è nata da coach Jenny di Lorenzo. Allora io devo ringraziare Ciccio per essere stato con noi in questa puntata. Ciccio io non posso fare altro che augurarti eh di essere protagonista presto su qualche parquet come meriti. Ti ringraziamo per essere stato con noi e ti ringraziamo per essere naturalmente eh sempre prezioso nei tuoi eh diciamo le due digressioni di carattere tecnico e non su tutti i campionati. Grazie ancora. Grazie a te Paolo, grazie Andrei, insomma è sempre un piacere stare con voi, insomma è ehm mi scuserete voi e i e gli ascoltatori se mi sono dilungato in qualche aspetto ma è il vizio di noi allenatori, quelli di voler andare nel merito di 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 dettagli che magari alla stragrande parte delle persone sfuggono non perché non abbiano gli strumenti ma perché magari hanno meno questa paranoia di andare nei dettagli che accomuna insomma tutti i protagonisti, le persone che fanno parte della nostra categoria di tecnici. Bene allora grazie a Ciccio Ponticello. Io rubo un attimo il mestiere a Andrea Esposio dicendo continuate a seguirci sulle pagine social, ricordatevi di Pianità Basket TV, ricordatevi anche delle otto televisioni che ci programmano su Digitale Terrestre e ci permettono di arrivare in cinque o sei regioni del centro sud Italia. Grazie Andrea, prezioso, preziosissimo collaboratore, grazie a Ciccio Ponticello e io come sempre concludo la mia trasmissione ormai come faccio da trentasette anni in tv. Buon basket a tutti. Grazie a Ciccio, grazie Andrea. Ciao. 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 Grazie a tutti